Sei una magistra della comunicazione non verbale benenzoniana, sei una musicoterapista e una docente di musica, per cui ti chiedo immediatamente di raccontarci della tua formazione e poi di come sei approdata alla musicoterapia. Bene, allora intanto buon pomeriggio a tutti, grazie di questo preziosissimo invito e di questa bellissima iniziativa. Allora, io nasco come docente di musica, ho frequentato il conservatorio per quattordici anni e mi sono occupata, dopo gli studi, molto di propedeutica musicale, frequentando svariati corsi di aggiornamento sulle varie metodologie. Quindi per anni ho lavorato molto con la libera professione, nelle scuole dell'infanzia, primaria, scuola media, insomma in tutti gli ordini di scuola. A un bel momento della mia vita, un mio carissimo amico che non è più tra noi, un ragazzo disabile, un giorno mi parla della musicoterapia e degli effetti che questa produce. È molto incuriosita, mi informa, approfondisco il discorso, sino a quando approdo ad iscrivermi alla scuola quadriennale di musicoterapia di Assisi. In questa scuola è stato veramente straordinario perché per quattro anni io ho frequentato sempre le due settimane intense estive e frequentavamo laboratori sia di taglio musicale che di taglio musicoterapico, laboratori di musicoterapia attiva e di musicoterapia recettiva. Durante questi quattro anni, alla fine del percorso, decido di approfondire uno dei cinque modelli più importanti a livello mondiale. Ecco, di questo adesso parliamo. Ti chiedo solo una cosa, quanto ha cambiato? Perché dicevo prima, tu sei comunque una docente di musica, quindi eri già una professionista dell'arte musicale, per cui quanto ti ha cambiato l'approccio alla musicoterapia rispetto alla tua professione? Allora, mi ha cambiato tantissimo. Ti cambia la prospettiva perché insegnare musica come faccio io, ormai come docente di ruolo, è un tipo di professione dove tu comunque devi insegnare qualcosa. Nel caso della musicoterapia non devi insegnare ma è un contributo terapeutico che, come dire, lavorando in sinergia con altre terapie si prefigge un obiettivo primario che è quello di, come dire, di curare quella che è la persona, della sua interezza, dare un contributo proprio per questo aspetto. Ripeto, alla fine del percorso di assisi decido di partire a Buenos Aires perché l'ideatore del modello Benenson è proprio Rolando Benenson, uno psichiatra. Quindi decido di fare questa avventura, di andare in Argentina e di diventare formatrice. Io ti interrotto, tra l'altro, dicevi prima che questo è uno dei cinque modelli riconosciuti di musicoterapia. Esattamente. Allora, nel convegno di Washington del 1999 il modello Benenson fu decretato il secondo modello più importante a livello mondiale. È un modello che si fonda sulla comunicazione non verbale. Parliamo di comunicazione analogica che differisce da quella con la quale mi sto esprimendo in questo momento, ossia la comunicazione digitale. Nel contesto del modello Benenson tutto avviene in un setting naturalmente nel quale ci si esprime col non verbale, con l'ausilio della parola non parlata, della voce per mi scuso, della della voce non parlata e con l'ausilio del mediatore sonoro, del suono nel senso ampio del termine, utilizzando o strumenti tradizionali che non sempre sono consigliabili a seconda dei casi perché comunque si rompono facilmente, oppure con l'utilizzo di strumenti etnici o ancora meglio con la costruzione degli strumenti da parte dei pazienti stessi e inoltre viene contemplato anche il movimento, i suoni come dire prodotti dal nostro corpo, le cosiddette body percussion e tutto questo in un contenitore che è una sorta di protezione, un luogo protetto sacro nel quale il paziente qualunque esso sia esprime la sua vera essenza con un elemento incredibilmente affascinante e auspicabile in tanti altri contesti, ossia la mancanza del giudizio. Nel modello Benenson non c'è giudizio, tutti veniamo invitati, tutti quanti compresi i terapeuti che imparano, i terapeuti e i formatori imparano costantemente dagli alunni, così come a scuola io imparo anche dai miei alunni, ci viene insegnato di ascoltare senza giudicare e quando uno vuole esprimere una propria opinione su quanto accade lo può fare ma esprimendo soltanto il proprio sentire, mai interpretare e mai giudicare gli eventi che si eh si si snodano durante le sedute. Ecco tu appunto sei una formatrice di questo modello eh quindi ciò vuol dire che si può seguire evidentemente tutto il percorso per poter raggiungere la 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 ilploma eh di ehm eh o o di comunicazione non verbale benensoniana giusto? Sì allora è praticamente tecnico ecco mi viene la parola tecnico sì tecnico non verbale benensoniana ecco. Corretto allora ti dico subito inizialmente quando io appunto studiai prima di andare a Buenos Aires feci la feci frequentai la formazione in Italia Trattorina e Milano i livelli all'epoca erano sei sei livelli ad oggi sono diventati otto il professor Rolando Benenson proprio in quest'ultimo periodo ha ideato l'ultimo infatti questo è un modello in continuo divenire eh una cosa che non ti ho detto Paolo è che dal più o meno dal duemila e quattordici al duemila e diciassette eh io dopo essere tornata appunto dall'Argentina ho iniziato a portare la formazione qui in Sardegna e la feci proprio per tre anni consecutivi eh l'utenza è stata sempre molto numerosa e molto incuriosita da questa da questa come dire da questa situazione nuova perché sai che un po' ma al sud le cose arrivano sempre un pochino in ritardo eh gli scritti erano provenivano diciamo da ehm da 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 formazioni differenti dallo psicologo al pedagogista dal dalla casalinga dal dal laureato in lettere non è necessario avere dei requisiti eh assolutamente anzi il i musicisti talvolta io nasco come musicista come ben sai talvolta eh come dire vengono un po' limitati dalla formazione prettamente tecnica musicale perché eh la musicoterapia ripeto è un ehm come dire è una terapia e quindi non non c'è l'estetica musicale per quanto quando c'è formazione tra musicisti è inevitabile che si crei creino delle vere vere jet session perché ovviamente in noi in ciascuno di noi c'è un'identità sonora eh così chiamata tecnicamente ISO da Rolando Benenson e e ovviamente se io sono musicista quando io mi esprimo eh nel contesto di una performance eh durante la formazione piuttosto che durante la terapia viene fuori quella che sono io e quindi se sono musicista e sono con altri musicisti vengono fuori anche questi aspetti. Allora ehm Emanuela hai in programma di eh riprendere l'attività di formatrice per livelli Benenson dicevi che appunto dal duemilaquattordici al duemiladiciassette è stato possibile seguire ehm i corsi eh attraverso la tua preparazione hai un eh un progetto rispetto a questa cosa so che forse non è l'anno adatto ecco per per proporre una cosa di questo tipo però ehm prima dicevi le cose al sud arrivano in ritardo però questa è invece un'eccellenza che arriva che c'è già adesso per cui perché perdersela? Certo allora diciamo che per motivi contingenti ho interrotto la formazione sul quinto livello benedio quindi conto di portare la termine appena sarà possibile con gli allievi che avevano appunto frequentato quel ciclo di livelli mh di qualche anno fa eh poi c'è una un diciamo possiamo dire un pro un mezzo progetto di riattivare i livelli quindi il ciclo dei livelli dal primo in poi di nuovo con la scuola Artedo eh c'è questa diciamo questa questo spiraglio che spero che questo avvenga e ovviamente insomma aggiorneremo in futuro sui prossimi sviluppi ecco ecco signora approfitto per dire appunto che eh tu sei la magister ti ho presentato come magister e per chi non conoscesse in che senso diciamo questa parola è una figura che può sostituirsi a eh bene insomma che appunto è un neurologo psichiatra musicoterapeuta eh artista ehm che lui eh è vivente ancora per cui abbiamo la possibilità di potere eh insomma conoscerlo anche durante questi corsi e quando appunto lui riesce a venire dall'Argentina però durante la sua assenza i magister hanno la possibilità di potere ehm eh indottrinare insomma dare un eh un percorso formativo alle persone che vogliono eh appunto diventare tecnici eh della comunicazione non verbale benensoniana o è corretto ciò che ho detto giusto? Assolutamente eh ci sono magisteri in tutto il in tutto il mondo e Rolando Benenson ha sedi in tutto il mondo quindi c'è il il centro Benenson in Italia e sta Torino centro insieme però eh ovviamente i magister di tutti i paesi del mondo eh possono eh come dire fare la formazione eh quindi i praticamente svolgere i livelli ecco noi ci terremo in contatto perché questa sicuramente è una una bellissima possibilità che non ci lasceremo scappare e noi nelle puntate precedenti appunto abbiamo parlato anche di Artedo Bari Artedo Sardè e Artedo Sicilia che sono altre due sedi del circuito Artedo dove appunto è possibile eh seguire la formazione benenzoniana per cui siamo uniti da questo da questo legame davvero davvero eh un'eccellenza eh della musicoterapia per cui sicuramente resteremo in contatto e faremo in modo che quando sarà possibile appunto eh riprendere in mano le le redini del discorso. Eh Emanuele il tempo sta scadendo ma io ancora voglio chiederti di lasciarci dei tuoi contatti e una tua mail appunto per restare anche aggiornati evidentemente sul sulla formazione che che puoi garantire. Assolutamente allora beh potete cercarmi su Facebook come Emanuela Milia o anche un'associazione quindi mi trovate sia nella nella pagina dell'associazione che in quella personale e poi per qualsiasi info potete scrivermi al seguente indirizzo info uninatura chiocciolallibero.it eh volevo aggiungere per concludere eh che la musicoterapia è rivolta a tutti non soltanto ai disabili ma anche ai normodotati quindi tutti abbiamo bisogno di esprimerci liberamente questa e questa situazione ce lo consente. Anche perché il percorso di crescita personale diciamo la verità non si conclude mai. Assolutamente è bene anche cominciarlo. Assolutamente. Emanuela è stato un grandissimo piacere oggi abbiamo tantissimi ospiti questa è una puntata a cui io tengo veramente una bella puntata non che le altre non lo siano state ma abbiamo professionisti ehm la provincia di Cagliari ci ha offerto davvero un ehm delle attività delle proposte culturali interessantissime anche formative per cui cercherò di rispettare i tempi più delle altre volte anche per cui davvero grazie grazie di essere stata con noi e ci sentiamo presto. Grazie a te ciao a tutti buon pomeriggio. Arrivederci. Ciao ciao a presto.